A riempire le pagine di tv e gossip dei principali siti di informazione online, questa settimana, è la notizia che vede Asia Argento abbandonare il ruolo di giudice di X Factor, a seguito della divulgazione della scandalosa news, video virgola concernente le presunte molestie sessuali che l'attrice avrebbe inferto al giovane attore Jimmy Bennett. I giudici di X Factor 12, Fedez Emanuele Agnelli, hanno rilasciato alcune dichiarazioni, tra loro contrastanti, circa l'afferra Asia Argento.Argento fuori dal cast di X Factor 12 i dettagli può dirsi ufficiale l'attrice italiana, regista e cantante Asia Argento non farà più parte del cast dei giudici della dodicesima edizione consecutiva di X Factor.Arrenderlo noto, è stata la produzione del celebre talent show, che ha pubblicato via social la notizia dell'addio dell'argento al talent show delle voci. Un nuovo giudice si siederà al tavolo. Di comune accordo con Asia Argento, abbiamo deciso di interrompere la nostra collaborazione, ha riferito la produzione di X Factor 12, via social media.Una decisione, quella sulla fine del rapporto di collaborazione tra Asia Argento e il format dei talenti vocali, presa a seguito della divulgazione della notizia secondo cui l'ormai ex giudice di X Factor avrebbe pagato l'ingente cifra di 380.000 dollari al giovane attore e musicista Jimmy Ben, allo scopo di ottenere il silenzio di quest'ultimo, il quale sostiene di aver subito delle molestie sessuali dall'attrice italiana. Quando lui aveva solo 17 anni e lei 37.Le parole degli ex colleghi di Asia e in difesa di Asia Argento, si è espresso il giudice di X Factor 12 nonché ex collega dell'attrice, Manuel Agnelli, il quale ha riferito sono addolorato, perché sono amico di Asia, e sono convinto che sia una persona facilmente attaccabile, molto fragile, con un sacco di scheletri nell'armadio, video. Il New York Times non può essere un tribunale. Se da una parte Agnelli difende l'argento, dall'altra parte, il consorte di Chiara Ferragni e il giurato di X Factor, Fedez, ritiene sia giusto che Asia non collabori più con la produzione del programma televisivo trasmesso su schiuno giusta la scelta di sostituire Asia, per tutelare i concorrenti. Spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento, ha chiusato il cantautore rap di Cigno Nero, da poco sposatosi con la sua dolce metà chiara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.